Bruno e Alessandra 30 anni fa hanno deciso di aprire qui in via Garibaldi la loro gelateria perché vogliono portare il gusto del loro gelato artigianale e il 20 ottobre dalle 15.30 in poi via Garibaldi la pubblica del gelato vi aspetta per un piccolo brindisi ciao! Grazie a tutti!